Ciao, sono Vittor Organico, fondatore di Performarsi.net. Come sai, nei prossimi giorni, esattamente fra due giorni, domenica 6 marzo, io e Terramato terremo ad Alessandria un evento speciale e unico nel suo genere, dal titolo Chissà perché capitano tutti a me, durante il quale noi ti aiuteremo a comprendere quali sono le dinamiche che ti portano ad attirare la tua vita sempre le stesse persone e le stesse situazioni, ma soprattutto ti daremo indicazioni sulle sette pratiche quotidiane che favoriscono la felicità. Chi mi conosce sa benissimo che io amo condividere quello che so con le altre persone e in questo momento sono veramente trattenuto, mi sono trattenuto nel non darti le informazioni che ho appreso anche durante il confronto con Ettore Amato. Però una cosa la voglio fare, voglio anticiparti quelle che saranno le sette pratiche quotidiane che ovviamente vedremo durante l'evento e soprattutto ti spiegheremo come applicarle in maniera corretta. Le sette pratiche quotidiane sono 1. Parla, 2. Agisci, 3. Ricorda, 4. Ritrova, 5. Festeggia, 6. Immagina, 7. Condividi. Ovviamente messe così sembra che abbiano poco senso ma comprenderai perché sono importante per aiutarti a ottenere quello che desideri. Se sei una persona già iscritta al corso non ti resta che aspettare, di vedere, di partecipare al corso e di vivere perché comunque sarà un'esperienza che tu vivrai e comprenderai quanto la tua responsabilità entra in gioco in quello che vivi e in quello che attiri. Se invece non hai ancora deciso di partecipare, ovviamente non hai ancora fatto la tua iscrizione, ti consiglio di seguire il link che trovi qua sotto e farlo nel più breve tempo possibile. Non vedo veramente l'ora di poter condividere con voi tutto quello che ho imparato e veramente l'entusiasmo è veramente travolgente. Non vedo l'ora di incontrarvi, di conoscervi e soprattutto non vedo l'ora di ascoltare le vostre domande e mi auguro di potervi dare le risposte che state aspettando da tanto tempo e non avete mai ricevuto. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo il 6 marzo d'Alessandria. Ciao e a prestissimo! Ciao e a presto! Ciao e a presto!